E poi che senso avrebbe tornato a casa? Dalla trilogia di Life, il romanzo di Alex Polly, sta nascendo il primo film senza immagini. Per tentare di uccidermi a spragate e portarmi via quella ripresa? È la produzione più innovativa e unica nel mondo dell'audio, l'audio movie. E tra l'altro non so neppure più dove ho messo. Life, oltre l'immaginazione. No, non ci credo. Che senso avrebbe? Oh, sono proprio contento di aver tirato fuori Oliver Queen dalle tue corde. Sei stato bravo, grazie. Oliver Queen era perfettamente nelle tue corde. Benvenuto, Daniele, nel cast di Life. Grazie, grazie Alex. È stato un grandissimo piacere. Ed è assolutamente un piacere per me essere parte del casting di Life. È una bellissima esperienza. Sicuramente sarà un'esperienza bellissima anche in seguito. E poi bisogna dire una cosa. Uniti ce la faremo. Dalla trilogia di Life sta nascendo il primo film senza immagini. È la produzione più innovativa e unica nel mondo dell'audio, l'audio movie. No, detective, ero disperato. E avrei fatto qualsiasi cosa per riavere mia figlia. Sarà come assistere ad un film senza vedere le immagini. Quindi sei tu il padre, John. E certamente lo sapevi. La storia di Life, attraverso il thriller esoterico di John Templer, rispecchia i tempi correnti. Con in più un grande messaggio di speranza che porti verso l'amore. Io devo conoscere la verità su quel libro e comprendere se può rimanere nelle mani di un cittadino o deve essere sotto la custodia del governo degli Stati Uniti. Il percorso che l'intera umanità ha intrapreso su una strada sbagliata da troppo tempo. No! E quando sei cambiato? Cinque minuti fa. Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Con l'Audiomovie diamo e vogliamo conservare la possibilità all'ascoltatore di continuare ad immaginare attraverso la propria creatività ciò che sta ascoltando. Con l'Audiomovie diamo e vogliamo conservare la possibilità di un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Con l'Audiomovie diamo e vogliamo conservare la possibilità di un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Con l'Audiomovie diamo e vogliamo conservare la possibilità di un'occasione per rivoluzionare tutto completamente.